Primi segnali di speranza dopo mesi difficili iniziano ad arrivare se ci si sofferma a leggere i dati riguardanti le persone che nelle ultime ore stanno vincendo la battaglia contro il covid-19. Nella zona dell'area Vestina il dato più significativo arriva da Farindola. Ieri nel comune guidato dal sindaco Lacchetta è arrivata la notizia del primo cittadino clinicamente guarito dopo la negatività al doppio tampone. Altre quattro persone invece sono risultate negative al primo tampone e sono in attesa della controprova. Adesso sul territorio comunale resta una sola persona in sorveglianza attiva da parte della ASL dall'iniziale numero di 22. Restano ferme a 10 i contagi sul territorio comunale di Montebello di Bertona dove il sindaco Gianfranco Macrini analizza così la situazione. La situazione adesso è tornata quasi sulla normalità diciamo sotto il punto di vista di positivi in quanto abbiamo avuto nelle ultime due settimane solo un positivo per fortuna quindi è molto gestibile la situazione. Voglio accorgere l'occasione per ringraziare tutti i cittadini di Montebello che hanno dato una dimostrazione di serietà nell'affrontare questo problema. Tre guarite scusa al momento e ci sono ancora dei casi positivi. Una signora la più grave è ancora ricoverata appena che era stata indubbata ma adesso la situazione è migliorata sensibilmente. Diciamo che tutto sommato e c'è stato un decesso purtroppo l'unico di Montebello. Sono molto fiducioso spero e sono convinto che Montebello uscirà fuori dalla zona rossa. Certamente non abbasseremo la guardia, l'attenzione sarà sempre altissima però spero che Montebello vada fuori perché i numeri sono dalla nostra parte. Appenne dove i numeri di positivi sono confermati a 112 su una popolazione di circa 12.000 abitanti iniziano ad arrivare le prime buone notizie sui pazienti guariti, da cui come detto più volte il sindaco Mario Semproni. L'amministrazione comunale spera nei prossimi giorni dopo aver ascoltato i responsi che arrivano da parte della ASL di Pescara di iniziare a comunicare con certezza il numero esatto. Comunque i numeri dei contagi restano all'osservato speciale in vista del 19 aprile, giorno della scadenza della prorga delle zone rosse. In tutti i comuni c'è attesa per la relazione epidemiologica della ASL che potrebbe ridare un po' di libertà ai tanti lavoratori. Uscendo dalla zona rossa, primi guariti accertati anche a Loreto a Prutino, tra cui quattro ospiti della casa di riposo a Cerbo de Pasquale, evacuata nelle settimane scorse. Intanto continuano i gesti di solidarietà all'interno dell'ospedale San Massimo di Penne. Nei giorni scorsi la Croce Rossa ha consegnato uova di Pasqua ai pazienti del reparto Covid di medicina, mentre una pasticceria della zona ha voluto ringraziare medici del reparto di ortopedia e di tutto il presidio ospedaliero per il grande lavoro che ogni giorno stanno svolgendo.